Utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per un piano straordinario di manutenzione delle strade. E la proposta avanzata dal consigliere regionale Michele Napoli con una mozione. Noi attingiamo, questo è il nostro auspicio, dal Fondo di sviluppo e coesione che prevede proprio per la manutenzione e la messa in sicurezza dell'intera rete stradale oltre 6 miliardi di euro destinati alle regioni del sud. Questo al netto del patto siglato con il governo da parte della regione Basilicata e da parte di tutte le altre regioni. Buona parte di queste risorse, di questi 6 miliardi, sono in quota alla regione Basilicata. Noi prevediamo un piano straordinario di messa in sicurezza che garantisce gli utenti della strada ma soprattutto anche favorisce l'attrattività di un territorio. Pensiamo alle aziende, a coloro i quali producono, al sistema produttivo che incontra enormi difficoltà. Del resto basta percorrere una qualsiasi strada della regione Basilicata. Ci accorgiamo che le strade sono ridotte a groviera, per non parlare di quelle comunali, con svincoli e con difficoltà per chi invece dovrebbe percorrere in assoluta sicurezza la rete infrastrutturale e stradale della Basilicata. Grazie. 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 Grazie.